Ok, è iniziato a registrare il video, ho fatto dim, dai, io vi inquadro, dai che facciamo tutti il video, siamo il parco delle cose, lasciami stare, lasciami stare, dai, che dopo lo mettiamo su YouTube, Ale, dopo mi inquadri, te lo do mi inquadri, ma che capelli c'hai, guarda, ma mi li ha spettinati lui, è colpa di Vasco, no, smettila che stai facendo il video, dai che dopo lo mettiamo su YouTube, oggi è una giornata di vacanza, e l'evolutore vi Smettila, ma io cosa sto inquadrando? Un attimo, dai, sì, il video l'ho fatto, anche io sto facendo il video, ho preso Matte, ho preso Vasco, Vasco fai partita? Sì, ah, ho capito, quindi bisogna schiacciare il, sì, abbiamo tempo di fare una partita dura, 5 minuti, sì, 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 dopo andiamo a mangiare, tanto ritorniamo quello lì dalle sci, dalle girate, è giusto far vedere una giornata di vacanza ogni tanto, no? Una giornata, una giornata rilassante, una giornata, quell'evolutore in relax, con figlio, nipote, moglie, ah non lo so cosa sto riprendendo io, magari sto riprendendo anche te, no, io non mi sto riprendendo No, no, mi sa che devi fare così che riprendi i bambini, non si sa, boh, ma sì, adesso spegni dai, ma non sono così Dai, basta, 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 cioè spegniamo che vediamo cosa è venuto di sto video Modalità, interrompi registrazione Modalità, interrompi registrazione